Paolo, giallo, thriller o noir? Qual è il genere più complicato da scrivere? E quale funziona meglio negli ultimi anni? Rispondere a questa domanda non è difficile. Tra giallo, thriller o noir, ma anche horror, anche fantascienza, ma anche fantasy, ma anche qualunque altro genere ci possa venire in mente, è più difficile da scrivere quello che si conosce meno bene, mentre è più facile da scrivere quello che si conosce meglio. Uno scrittore di genere dovrebbe essere infatti innanzitutto un appassionato lettore di genere, perché è così che funziona. C'è una sorta di comunità che si viene a creare tra chi scrive un genere letterario e i suoi lettori, perché i suoi lettori non sono soltanto coloro che leggono il genere, ma sono anche quelli che in qualche modo lo costruiscono, che lo conoscono e che tutto sommato fanno crescere un certo tipo di autore rispetto a un altro. Le preferenze che un gruppo di lettori di genere dà a un certo tipo di autore sono decisive, perché sono queste preferenze che fanno crescere attraverso il passaparola l'autore nelle classifiche e nelle vendite. Comunque in questo momento il genere che sta andando meglio, e non solo in questi ultimi anni ma già da un bel po', è il giallo. E io credo che ci sia qualcosa di naturale in questo, di scontato, perché il giallo corrisponde intanto a una descrizione della realtà molto simile a quella che viviamo, mentre gli altri generi spesso devono spingerla, camuffarla, trasformarla per essere potenti. Inoltre il giallo ha una caratteristica essenziale, alla fine l'assassino viene sempre scoperto e tutto in qualche modo ritorna a posto, perciò anche se ci fossero mille omicidi, alla fine si tratta di un genere consolatorio. E diciamoci la verità, abbiamo tutti bisogno di essere consolati.